musica 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 la conosci già? basta vai che colori? manuale o automatico? cioè noti che adesso puoi evitare in manuale o in automatico? ma proviamo i Ziusi spettamente poi a dire in automatico io sono Danilo Gabriella Pizzera ciao musica 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 ok iniziamo a frenare e come ti trovi con questa macchina? benissimo no? così quotidianamente? no soltanto quando vado a fare track day ah ok però non ci riesco sempre inserisco il manuale iniziamo a frenare così vai e iniziamo a frenare iniziamo a frenare e iniziamo a frenare e iniziamo a frenare 6 7 6 7 9 5 9 10 10